La polizia schierata ha impedito ai membri di un partito turco d'opposizione, l'MHP, di riunirsi in congresso all'interno di un albergo di Ancara. I delegati sono rimasti all'esterno scandendo slogan di protesta contro il governo, ma soprattutto contro il proprio segretario, Devlet Baceli, che la base del partito vorrebbe rimuovere. Per farlo è stato necessario organizzare un congresso straordinario per poter modificare lo statuto. Baceli ha accusato di sostenere Erdogan e il suo sistema di potere. Meral Akhsener, la candidata favorita per sostituire Baceli, ha arringato la folla dei delegati. Quelli che hanno cambiato il primo ministro in un'ora, dice, adesso procedono nei modi più illegali e antidemocratici per impedire al movimento nazionalista di celebrare questo congresso. Il divieto, notificato appena un'ora prima, è venuto da un giudice dopo che un altro giudice aveva autorizzato la riunione. Il presidente Erdogan ha bisogno dell'appoggio dell'MHP per la riforma costituzionale che gli darebbe più poteri. Secondo i 5.000 bloccati davanti all'albergo di Ancara, Baceli, leader da quasi 20 anni, gli garantirebbe l'appoggio del partito. Per questo i delegati ne chiedono dimissioni.